Le missioni cristiane internazionali avventisti del settimo giorno Movimento di Riforma Ricorda di seguire la nostra programmazione Tutti i mercoledì e giovedì alle 19 I venerdì alle 20 e 30 Questo è il canale delle missioni cristiane internazionali avventisti del settimo giorno Movimento di Riforma Ricorda di seguire la nostra programmazione Tutti i mercoledì e giovedì alle 19 I venerdì alle 20 e 30 E ogni sabato non perdere il doppio appuntamento alle 11 e un quarto e alle 16 Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com Dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci Grazie e buona visione Miei cari amici, miei cari fratelli Una buona serata a tutti voi nel nome del nostro Signor Gesù Ci troviamo insieme con il pastore Ciprio per la meditazione del mercoledì Prima di dare la parola al fratello Preghiamo il Signore e la sua presenza Preghiamo Signore Dio buon padre che troneggi nell'alto dei cieli Il tuo nome sempre sia lodato Ti ringraziamo di aver dato Gesù a morire per noi E solo attraverso Gesù abbiamo perdono e vita eterna Ora ti chiede bene il fratello Ciprio Ungilo tu col tuo Santo Spirito Ungilo i suoi labbra Affinché possa parlare in verità e addirittura E apri le nostre orecchie e aziona anche la nostra volontà al tuo servizio Rimani con noi, benvigi coloro che parla e coloro che ascoltano Nel nome di Gesù benedetto in Eterno Bene, miei cari amici, miei cari fratelli Diamo la parola al fratello Ciprio Che parlerà del tema dal titolo Che cosa è successo a Sichem Al fratello Ciprio la parola E a tutti voi buon ascolto La grazia e la pace del Signore Gesù E la comunione dello Spirito Santo sia con ognuno di noi Amen Bene, oggi parleremo di Sichem Una città antica che era nella Canaan Cosa è successo a Sichem? Vediamo un pochettino cosa ci dice la parola di Dio Sichem, come dicevo, era una città antica della regione di Canaan Ed era una località palestinese nei pressi del monte Ebal e il monte Garazim In Samaria, circa 65 chilometri da Gelusalemme Oggi di questa città non ce ne sono più tracce E se non che esiste solo un sito archeologico Dove appunto sorgeva prima questa città Vediamo cosa ci dice la parola di Dio Riguardo intorno a questa città Ai tempi dei patriarchi A Sichem Abramo si fermò quando entrò nella Canaan In Genesi al capitolo 12 E' scritto Ora in quel tempo i Cananei erano nel paese Quindi vediamo che questa città ancora prima di Abramo Già esisteva Ancora in Genesi al capitolo 33, versetto 18 e 19 Vi abitò Giacobbe e vi comprò un campo che venne usato come luogo di sepoltura Versetto 18, versetto 19 dice Poi Giacobbe tornando da Padam a Ram Arrivò sano e salvo alla città di Sichem Nel paese di Canaan E piantò le tende di rimpetto alla città E comprò dai figlioli di Emor Padre di Sichem Per cento pezzi di danaro La parte del campo dove aveva piantato le sue tende Ed eresse qui un altare E lo chiamò El Elohe Israel Purtroppo ci sono anche delle situazioni brutte Che sono avvenute in questa città Ad esempio come abbiamo letto prima Che Giacobbe comprò dal re di Sichem un campo E il re di Sichem, Hermon Aveva un figlio che si chiamava come la città Sicher E questo giovane violentò la figlia di Giacobbe, Dina E la scrittura dice che i fratelli di Dina Simeone e Levi Per vendicare l'onore della propria sorella Uccisero tutti i Sichemiti In Genesi al capitolo 34 Versetti dal 25 al 27 Ora avvenne che il terzo giorno Mentre quelli erano sofferenti Due dei figlioli di Giacobbe Simeone e Levi Fratelli di Dina Presero ciascuno la propria spada Salirono la città che si tenea sicura E uccisero tutti i maschi Passarono anche a fil di spada Emor e Sichem suo figliolo Presero Dina dalla casa di Sichem E uscirono I figlioli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi E saccheggiarono la città Perché la loro sorella era stata disonorata Bene, questa è un'azione scelerata Che fecero i fratelli di Dina Perché? Perché è vero che Sichem aveva violentato Dina Però voleva riparare Quindi voleva sposare Dina E i figli di Giacobbe Misero delle condizioni Riguardo alla circoncisione E Sichem accettò E che cosa fecero poi? Mentre loro il terzo giorno Erano ancora sofferenti Per via della circoncisione Simeone e Levi Approfittando della situazione Uccisero i Sichemiti Vediamo adesso Sichem ai tempi di Mosè In Gesù al capitolo 24 Al versetto 32 Dice A Sichem furono sepolte le ossa di Giuseppe E le ossa di Giuseppe Che i figlioli di Israele Avevano portate dall'Egitto Le seppellirono a Sichem Nella parte di campo Che Giacobbe aveva comprato Dai figlioli di Ermon Padre di Sichem Per cento pezzi di danaro E figlioli di Giuseppe Li avevano ricevuto Nella loro eredità Quindi vediamo che Giuseppe È vero che è morto in Egitto Però prima di morire Fece promettere al popolo di Israele Che quando loro avrebbero lasciato l'Egitto Avrebbero portato via anche le sue ossa E diciamo che la promessa poi è stata adempiuta Perché in Gesù noi troviamo appunto Che le ossa di Giuseppe furono sepolte E dove? A Sichem In Gesù sempre capitolo 24 È scritto che Quando il popolo di Israele Finì il suo pellegrinaggio Nel deserto Prima di poter entrare nella terra promessa Fece il rinnovo dell'alleanza Giosuè adonò pure tutte le tribù di Israele In Sichem E convocò gli anziani di Israele I capi, i giudici e gli ufficiali del popolo I quali si presentarono davanti a Dio Poiché l'Eterno, il nostro Dio È quelli che ha fatto salire Noi e i padri nostri fuori dal paese d'Egitto Dalla casa di schiavitù E che ha fatto quei grandi miracoli Dinanzi agli occhi nostri E ci ha protetti per tutto il viaggio Che abbiamo fatto E in mezzo a tutti i popoli Fra i quali siamo passati E Giosuè disse al popolo Voi siete testimoni contro voi stessi Che vi siete scelto l'Eterno per servigli Quegli risposero Siamo testimoni Quindi vediamo che loro Prima di entrare in possesso della Canaan Fanno un rinnovo di patto con Dio E c'è stata poi la divisione della terra promessa della Canaan E Sichem apparteneva al territorio della tribù di Efraim E fu data anche ai Leviti come città di rifugio Questo è scritto in Giosuè capitolo 20 E in prima cronache capitolo 6 e capitolo 7 Dopo la divisione della spartenza della Canaan Purtroppo c'è stato anche un altro episodio brutto A Sichem che poi diventa la capitale del regno di Israele Dopo la separazione dal regno di Giuda Sotto Salomone Israele divenne un regno ricco e potente Ma il popolo fu oppresso da pesanti tasse E costretto ai lavori forzati Quando il figlio re Boamo salì al trono I sudditi gli chiesero di alleggerire il fardello Ma egli rifiutò Allora le dieci tribù settentrionali si ribellarono E diedero vita a un nuovo regno Il regno di Israele Governato dal servo di Salomone Geroboamo Che divenne re Che pose la sua capitale a Sichem A sud Re Boamo continuò a governare il regno di Giuda Insieme alla tribù di Beniamino E un altro episodio brutto Lo troviamo in Giudice al capitolo 8 Versetto 30 E capitolo 9 Che Abimelec figlio di Gedeone Fu fattore di Sichem Gedeone ebbe 70 figlioli Che gli nacquero dalle molte mogli che ebbi aveva Mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre Avete ucciso i suoi figlioli 70 uomini sopra una stessa pietra E avete proclamato re di Sichemiti Abimelec figliolo della sua serva Perché è vostro fratello Quindi vediamo che Abimelec figlio di Gedeone Per essere re di Sichem Fece uccidere tutti i suoi fratelli E da questa azione scellerata Il Signore punì la città Perché poi il versetto dice Il Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem Tutto il male che essa aveva fatto E su loro si compie la maledizione di Giotam figliolo di Jerubal Tante cose successero a Sichem Questa città che poi ai tempi di Gesù Non era più chiamata Sichem Ma diventa Sicar in aramaico Bene, dicevo tante cose successero a Sichem Ma una è particolare E io voglio soffermarmi Proprio su questa particolare storia Che è avvenuta a Sichem Cioè l'incontro tra Gesù e una donna samaritana In Giovanni al capitolo 4 Troviamo dal versetto 1 fino al 6 Le necessità come uomo di Gesù Quando dunque il Signore seppe Che i farisei avevano udito Che Gesù stava facendo più discepoli E battezzando più di Giovanni Sebbene non fosse Gesù stesso Che battezzava ma i suoi discepoli Lasciò la Giudea E se ne andò di nuovo in Galilea Ora egli doveva passare per la Samaria Arrivò dunque in una città della Samaria Detta Sicar Vicino al potere che Giacobbe Aveva dato a Giuseppe, suo figlio Ora qui c'era un pozzo Il pozzo di Giacobbe Qui la Bibbia ci presenta Gesù, ripeto, uomo Con tutte le sue necessità Come ognuno di noi Gesù viaggiava spesso per la Palestina Lui è stato per trent'anni Nella Galilea A Nazareth E continuamente scendeva nella Giudea E quando scendeva in Giudea Lui passava per la Samaria La stessa cosa faceva poi a ritorno Per tornare in Galilea Dalla Giudea passava per la Samaria E qui Gesù è stanco per il viaggio E si riposa Dove? A Sicar Dove c'era un pozzo Il pozzo di Giacobbe Gesù Abbatte il muro del pregiudizio I versetti che vanno dal 7 al 9 Ci dice che una donna di Samaria Venne per attingere l'acqua E Gesù le disse Dammi da bere Perché i suoi discepoli Erano andati in città A comprare del cibo Ma la donna samaritana gli disse Come mai tu che sei giudeo Chiedi da bere a me Che sono una donna samaritana Infatti i giudei non hanno rapporto Con i samaritani Ecco Dalla divisione del regno di Israele E abbiamo detto prima Tra Re Boamo e Geroboamo Purtroppo si era nato poi Questo contrasto tra samaritani e giudei E si odiamano al punto Che loro non si rivolgevano Neanche il saluto Neanche lo sguardo E che cosa succede qua Che una donna samaritana Si reca al pozzo per attingere l'acqua E Gesù che era un giudeo Che cosa fa Gli rivolge la parola Al punto che questa donna rimane Così sbalordita Perché non si aspettava Minimamente che un giudeo Gli avrebbe rivolto la parola E infatti gli chiede Come mai tu che sei giudeo Chiedi a me da bere Che sono una donna samaritana Prendo la testimonianza Speranza dell'uomo Dello spirito di profezia Gli ebrei e samaritani Erano acernimi nemici E evitavano Nella misura del possibile Ogni relazione fra loro Trafficare in caso di necessità Con i samaritani Era considerato dai rabbini Cosa legittima Ma ogni altro rapporto sociale Era condannato Un ebreo non avrebbe mai chiesto Nulla a un samaritano Ne avrebbe mai accettato Da lui una gentilezza Fosse pure un pezzo di pane O un bicchiere d'acqua Anche i discepoli Non pensavano neppure Lontanamente Di chiedere il favore Ai samaritani Giacché Condividevano Gli stessi progidizi Comprando del cibo Agivano secondo Le abitudini del tempo Ma non sarebbero andati Al di là di questo Anche loro Non avrebbero mai chiesto Un favore A un samaritano E neppure glielo avrebbero fatto Quindi vediamo che Anche i discepoli Erano Di questa convinzione Che con i samaritani Non si doveva avere Assolutamente Nulla a che fare Gesù Quando raccontò La parabola Del buon samaritano E raccontò appunto Di quest'uomo Che era stato Assalito dai briganti Derubato Raccontò poi Che quando Passò di lì Un sacerdote Lo vede Che lui È a terra Ferito Però Passa dall'altra parte Così poi Passa un levita E anche lui Lo vede Però Non lo soccore Passa ancora All'altra parte Fino a che Passa poi Un samaritano Che vede Quell'uomo Che è ferito Lo soccorre Lo porta In una locanda Dove chiede All'ocandiere Di prendersi cura Di quest'uomo Ferito E poi Lo avrebbe Pagato Gesù Pone poi La domanda Ai giudei Chi è stato Il suo prossimo E i giudei Non hanno risposto Che è stato Il samaritano Ma gli hanno detto Semplicemente Quello che gli ha Prestato soccorso Quindi vediamo Proprio Il pregiudizio Proprio Quest'odio Che c'era Tra i giudei E i samaritani Quanti pregiudizi Esistono ancora Oggi Purtroppo Cristo ha battuto Il muro di separazione I pregiudizi Razziali Insegnando Alla famiglia Umana L'amore Universale Ci ha insegnato A considerare Come nostro prossimo Tutti coloro Che hanno bisogno E il mondo Come nostro Territorio di lavoro Così come i raggi Del sole Illuminano Gli angoli Più remoti Della terra Dio vuole Che la luce Del Vangelo Giunga Tutti i suoi Abitanti Questo è quello Che ci insegna Gesù Tra i figli di Dio Non ci deve essere Mai pregiudizio Verso Nessuno Noi siamo Chiamati A considerare Come nostro Prossimo Tutti coloro Che hanno bisogno Gesù si presenta Come l'unica Sorgente Della vita Infatti Nei versetti Dal 10 al 12 Sempre di Giovanni Capitolo 4 Gesù rispose E le disse Se tu conoscessi Il dono di Dio E chi è colui Che ti dice Dammi da bere Tu stessa Gliene avresti chiesto Ed egli ti avrebbe Dato l'acqua viva La donna Gli disse Signore Tu non hai neppure Un secchio Per attingere E il pozzo È profondo Da dove hai dunque Quest'acqua Se tu Forse più grande Di Giacobbe Nostro padre Che ci diede Questo pozzo E ne beve Gli stesso E i figli E il suo bestiame La donna Non comprese Le parole di Gesù Ma ne avvertì Solenne significato Il suo atteggiamento Frivolo Mutò Pensando che Gesù Alludesse All'acqua del pozzo Disse Signore Tu non hai nulla Per attingere Il pozzo è profondo Donde Hai dunque Quest'acqua viva Sei tu più grande Di Giacobbe Nostro padre Che ci dette Questo pozzo E ne beve Egli stesso La donna Aveva davanti a sé Un viaggiatore assetato Stanco e polveroso E lo paragonava Al grande patriarca Giacobbe Le piaceva pensare Che tutti gli altri pozzi Fossero inferiore A quello scavato Dagli antenati Volgeva il suo pensiero Indietro verso gli avi E avanti verso il messia Mentre la speranza Degli antenati Il messia In persona Le era accanto Senza che lei Lo sapesse Anche oggi Tante anime assetate Vivono accanto Alla fonte Di acqua viva E cercano lontano Le sorgenti Della vita Quindi questa donna Sentiva qualcosa Dentro di sé E desiderava Attingere quest'acqua La fonte Della vita E ce l'aveva davanti E oggi purtroppo Ci sono molte persone Che pur Avendo a disposizione La sorgente Di acqua viva Che è Cristo Gesù Cercano Lontani Da Cristo La sorgente Della vita Gesù È colui Che appaga Le vere necessità Nei versetti Dal 13 A 15 Gesù Rispose E le disse Chiunque beve Di quest'acqua Avrà ancora sete Ma chi beve Dell'acqua Che io gli darò Non avrà mai più sete In eterno Ma l'acqua Che io gli darò Diventerà in lui Una fonte d'acqua Che zampilla In vita eterna La donna Gli disse Signore dammi Di quest'acqua Affinché io Non abbia più sete E non venga più Qui ad attingere Chi cerca di dissetarsi Alle sorgenti terrene Avrà sempre sete Gli uomini Sono sempre insoddisfatti Anelano a qualcosa Che soddisfi Le esigenze Dell'animo Solo il Cristo Può rispondere Il mondo Il mondo ha bisogno Di lui La grazia divina Che solo lui Può elargire È un'acqua viva Che purifica Rinfresca E fortifica Lo spirito Gesù non intendeva dire Che un solo sorso D'acqua Potesse bastare Ma chi ha gustato L'amore del Cristo Vuole gustarne Sempre di più Ma non avrà bisogno Di altro Le ricchezze Gli onori I piaceri del mondo Non lo attrarranno più Ma cercherà Una maggiore conoscenza Di Cristo Colui che svela All'essere umano Le sue necessità Desidera Parlarne La fame E la sete Tutti i mezzi umani Verranno a mancare Le cisterne Si svuoteranno Le sorgenti Si nadiranno Ma il nostro Redentore È Una fonte Inesauribile Il credente In cui il Cristo Dimora in sé Una fonte Di benedizione Una fonte D'acqua Che scaturisce In vita eterna A questa fonte Può attingere Forza e grazia Per le tutte Le sue necessità Miei cari Solo Cristo Gesù Può appagare Tutte le nostre necessità Solo Cristo Gesù Può darci Quella necessità Di cui abbiamo bisogno La pace Dell'anima Fu chiesto una volta A Mary Lee Moreau La famosa attrice Che poi Si suicidò Un giornalista Gli chiese Cosa pensasse Della vita E lei disse Sono giovane Sono bella Sono ricca Ma non sono felice E dopo un po' Si suicidò Quindi vediamo Che le ricchezze Non possono Appagare L'anima I soldi Il potere La bellezza Non appaga L'anima Solo Cristo Gesù Può soddisfare Le nostre necessità Gesù risveglia Contatto La coscienza Della donna Samaritana I versetti Che vanno Dal 16 al 19 Gesù le disse Vai a chiamare Tuo marito E torna qui La donna rispose E gli disse Io non ho un marito Gesù le disse Hai detto bene Non ho un marito Perché Tu hai avuto Cinque mariti E quello che hai ora Non è tuo marito In questo Hai detto la verità La donna Gli disse Signore Vedo che tu Sei un profeta Interessante Come Gesù risveglia La coscienza Di questa donna Contatto Con gentilezza Gli fa notare Quasi un gioco Di parole Dicendo Vai a chiamare Tuo marito E lei Risponde Signore Io non ho un marito Gesù gli dice Come? Hai avuto Cinque mariti E quello che è ora Non è tuo marito Quindi vediamo Questa Sorta di Giochi di parola Che Gesù Utilizza Che fa Riflettere Gesù Non l'accusa Non gli dice No tu sei in fornicazione Tu sei stata In fornicazione Perché Hai convissuto Con cinque uomini E non ti sei mai sposata Qui La parola di Dio Ci fa comprendere Che la convivenza Non è considerata Matrimonio Agli occhi di Dio Ma è considerata Fornicazione Quindi il matrimonio Agli occhi di Dio Deve essere Un patto Che si fa Davanti a Dio Una promessa Quello è considerato Matrimonio E Gesù Risveglia La coscienza Di questa donna Sempre La testimonianza Sulla speranza Dell'uomo Dice Gesù Cambiò Improvvisamente Il discorso Per poter ricevere Il dono di Dio Quell'anima Aveva bisogno Di riconoscere Il suo peccato E il suo salvatore Perciò disse alla donna Vai a chiamare Tuo marito E vieni qua E la rispose Non ho un marito Sperava così Di evitare Ogni domanda Di quel genere Ma il salvatore Proseguì Hai detto bene Non ho un marito Perché hai avuto Cinque mariti E quello che hai ora Non è tuo marito In questo Hai detto il vero La donna Fremette Uno sguardo misterioso Scrutava le pagine Della sua vita E metteva in luce Ciò che essa Sperava di tenere Nascosto Ma chi era colui Che indagava i suoi segreti Pensò all'eternità Al giudizio E quando tutto Sarà svelato La sua coscienza Si risvegliò La donna Non poteva negare Ma evitò ogni accenno A un argomento Così scabroso Disse perciò Con profondo rispetto Signore Io vedo Che tu sei un profeta Poi Per far tacere La propria coscienza Avviò la conversazione Su un problema religioso Il suo interlocutore Essendo profeta Avrebbe certamente Potuto risolvere dei problemi Sui quali da tanto tempo Si discuteva Quindi vediamo Che questa donna Riflette sulle parole Che Gesù gli dice Quindi la sua coscienza Si è risvegliata Però c'è ancora Di cambiare discorso Ma è interessante Gesù che Gli sveglia la sua coscienza Ripeto Con quel tatto Con quella gentilezza Non puntandogli il dito Ma facendola riflettere Quindi vediamo Che Gesù Chiamava il peccato Col suo vero nome Ma non ha mai Accusato O giudicato Il peccatore Gesù parla Dei veri adoratori Visto che adesso La donna Gli deve porre Questa domanda Che per lei Era un dilemma Che si portava Da tanto tempo Nel versetto Dal 20 Fino al 24 Dice la donna I nostri padri Hanno adorato Su questo monte E voi dite Che a Gerusalemme È il luogo Dove si deve adorare Gesù le disse Donna credimi L'ora viene Che né su questo monte Né a Gerusalemme Adorerete il padre Voi adorate Quello che non conoscete Noi adoriamo Quello che conosciamo Perché la salvezza Viene dai giudei Ma l'ora viene Anzi è già venuta Che i veri adoratori Adoreranno il padre In spirito e in verità Perché tali sono Gli adoratori Che il padre richiede Dio è spirito E quelli che lo adorano Devono adorarlo In spirito e verità Quindi Gesù parla Della vera adorazione Chi sono i veri adoratori Quelli che adorano Il padre In spirito e in verità Ma che cosa significa Adorare il padre In spirito e verità Gli uomini Entrano in comunione Con il cielo Non attraverso Un monte O un tempio santo La religione Non deve essere limitata A forme esteriori O a cerimonie La religione Che viene da Dio È l'unica Che può condurre a Lui E poter servire Dio Correttamente Dobbiamo nascere Dallo spirito santo Così Il cuore purificato E la mente rinnovata Ci conferiscono Una nuova capacità Di conoscere Dio Amarlo E obbedire Spontaneamente La sua volontà In questo Consiste La vera adorazione Frutto dell'azione Dallo spirito santo Questa è l'adorazione Che Dio accetta Quando l'adorazione È condotta È guidata Dallo spirito di Dio Gesù dice Che i veri adoratori Adoreranno Il Dio In spirito E in verità In spirito Perché guidati Dallo spirito di Dio E in verità Perché si attengono Alla parola di Dio Che è la verità Gesù Si rivela A questa donna Come il Cristo Il Messia Il Salvatore I versetti Che vanno Dal 25 Al 30 La donna Gli disse Io so Che il Messia Che è chiamato Cristo Deve venire Quando sarà venuto Lui Ci annunzierà Ogni cosa Gesù le disse Io sono Colui che ti parlo In quel momento Arrivarono I suoi discepoli E si meravigliarono Che parlasse Con una donna Neppure però Gli disse Che cosa vuole O perché parli con lei La donna allora Ha lasciato il suo secchio Se ne andò in città E disse alla gente Venite a vedere Un uomo Che mi ha detto Tutto quello Che io ho fatto Non sarà forse Lui il Cristo Uscirono dunque Dalla città E vennero da lui Quindi questa donna Che era andata lì Per attingere L'acqua E cosa fa Quando Gesù Si rivela Come il Messia Il Salvatore Questa donna Getta via il secchio E corre in città Che deve andare Ad annunciare Il Messia Il Salvatore Nel frattempo Arrivano i discepoli E i discepoli Si meravigliavano Che Gesù Aveva parlato Con la Samaritana Mentre il suo passato Scorreva nella sua mente Si rese conto Della sua grande Povertà spirituale Sentiva quella sete Che le acque Del pozzo Di Sicar Non avrebbero Mai potuto estinguere Nulla Prima di quel momento Aveva suscitato In lei Un desiderio Così ardente Sebbene Gesù Le avesse dimostrato Di saper leggere I segreti Della sua vita Lo sentiva Come un amico Compassionevole La sua presenza Di una purezza assoluto Era certo Sufficiente A condannare il peccato Ma non aveva pronunziate Parole di condanna Le aveva parlato Della sua grazia Capace a rinnovare Il suo spirito La donna Cominciava a comprendere Qualcosa Del carattere Di quel profeta E si chiedeva Se non fosse lui Il Messia Da tanto Atteso Gesù Non avrebbe Annunziato La sua messianicità Agli ebrei orgogliosi Che Così chiaramente Come fece Con quella donna Con loro Era molto più riservato Ciò che non aveva detto Agli ebrei E che i suoi discepoli Dovevano tenere segreto Lo rivelò Quell'umile Samaritana Gesù sapeva Che si sarebbe servita Di quelle conoscenze Per condurre altri A sperimentare Della sua grazia E' interessante Ciò che Gesù Non rivelava Ai giudei Orgogliosi Lo ha rivelata Lo ha rivelato A quell'umile Samaritano Il Salvatore Prosegue oggi La stessa opera Di quando Offrì alla Samaritana L'acqua della vita Può accadere Talvolta A coloro Che si dicono Sui discepoli Di disprezzare I miseri E tenerli a distanza Ma nessuna differenza Di nascita O di stirpe Nessuna differenza Economica Può privare Gli uomini Dell'amore di Gesù Niente e nessuno Può privare Gli uomini Dell'amore di Gesù A ognuno Per quanto colpevole Gesù dice Se tu L'avessi chiesta Ti avrei dato Dell'acqua viva Il messaggio Del Vangelo Non deve essere diretto Solo a coloro Che a nostro giudizio Ci farebbero onore Accettandolo Ma va annunziato A tutti Il Cristo E' pronto A istruire Ovunque si trovino Le persone Che hanno il cuore Aperto A ricevere la verità Egli fa conoscere Il padre E il tipo di adorazione Che gradisce Parlando con loro Non usa metafore Ma dice chiaramente Come alla donna Del pozzo Io che ti parlo Sono adesso Bene Abbiamo visto Tutti gli episodi Che sono avvenuti A Sichem Ma che cosa Possiamo imparare Oggi Da Sichem O da Sicar Bene Chi ha bevuto Dell'acqua Della vita Diviene gli stesso Una fonte E di vita Ogni vero discepolo Nasce Nel regno Di Dio Come missionario Colui Che ha ricevuto Dona La grazia Del Cristo E per ogni Cuore Questo è quello Che noi possiamo Imparare Da questa storia Concludo Con l'ultima Testimonianza Dopo aver trovato Il salvatore La samaritana Condusse Altri uditori Mostrò Uno spirito Missionario Più intenso Di quello Dei discepoli Essi Non consideravano Per nulla La Samaria Come un campo Promettente Ivolgevano I loro pensieri A una grande opera Futura Senza scorgere Proprio accanto All'oro Un raccolto Pronto per la Mietitura Invece Una città Intera Ascolto Il salvatore Tramite una donna Disprezzata Che aveva Trasmesso Subito Ai suoi concittadini Il messaggio Ricevuto Quindi che la Grazia del Signore Gesù Il suo amore E la guida Dello Spirito Santo Possono Trasmettere A noi Questi insegnamenti In che ne Possiamo fare Tesoro E il Signore Ci benedica Amen Ringraziamo il Signore Per il messaggio Del pastore Ciprio Ci troviamo Tutti a Sicem Pozzo di Giacobbe Un'esperienza molto bella Con la Samaritana Di tutti noi Da ora in poi Sempre più missionari Preghiamo con il fratello Ciprio Ciprio Signore Dio Veniamo a Te Per ringraziarti Per il meraviglioso dono Che ci hai fatto In Cristo Gesù Fa che veramente Possiamo essere Degli strumenti Delle Tue mani Che possiamo fare Ogni giorno L'esperienza Della donna Samaritana Fa che possiamo Attingere Sempre L'acqua viva Da Te Affinché Possiamo essere Anche noi I sorgenti Di acqua viva E fa che possiamo Danare agli altri Quello che abbiamo Ricevuto da Te Guidaci col Tuo Santo Spirito Affinché Ogni cosa Possa tornare Per la Tua gloria Benedici Ognuno di noi Benedici Coloro che Ascolteranno Questo messaggio Che hanno Ascoltato Questo messaggio E fa che Ogni cosa Possa tornare Per la Tua gloria Ogni grazie Te la chiediamo Nel nome di Gesù Che mi ha detto In eterno Amen 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 Bene Grazie fratello Ciprio Una buona serata a te E a tutti voi Vi raccomando Di ritrovarvi domani sera Per ascoltare la lezione Venerdì sera Per l'altra diretta Sabato per il sermone E sabato pomeriggio Per l'altra diretta Iscrivetevi al canale In modo che potete Ricevere le notifiche In tempo debito Di nuovo Dio vi benedica E buona serata Buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti